Metro C, secondo giorno. L'ufficio stampata crompe gli indugi a metà giornata in una nota comunica che il servizio della nuova linea procede regolarmente registrando anche una grande affluenza di passeggeri. Un'affluenza che testimonia, ove ce ne fosse bisogno, la fame di trasporto pubblico moderno ed efficiente che hanno i romani, ma una fame che potrà essere soddisfatta, almeno in parte, solo l'anno prossimo se, come previsto, la Metro C aprirà altre sette stazioni e soprattutto arriverà a San Giovanni, vero punto di scambio con la linea A. Per ora chi volesse incrociare le altre due linee deve servizi del bus 451 che percorre tutta via Palmiro Togliatti e col quale si può arrivare alle fermate di Sub Augusta, linea A, e Ponte Mammolo, linea B, o del 105 che arriva a Termini. I fondi per prolungare il percorso fino a San Giovanni e Piazza Venezia ci sono, mancano ancora invece quelli necessari per proseguire i lavori e arrivare a Ottaviano. I romani, soprattutto quelli che abitano e lavorano nel quadrante est, si accontenterebbero già di vedere le prossime fermate e aprire entro 12 mesi, a patto che cambia anche l'orario di esercizio della Metro C, che per ora va dalle 5.30 alle 18.30, con una chiusura proprio nell'ora di punta, che andrà spostata in avanti per portare a casa chi, a fine giornata, esce dal lavoro.